se lui ti tiene i 6.700 euro del mese vecchio mi senti a me? mi deve togliere i contributi allora hai capito cosa ti vuoi dire? si si ci capito, pure 4.600 euro ancora una mese, una mese ultima che c'è 4.600 euro? no no no, è chiaro questo 1.600 euro, pure lì va, vinciare a dirlo con me non è che lui vuole trovare i diritti come vuole dirlo, vuole fare cose come dirlo come non dovete dirlo, vado, non è vero niente, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero che il culo che veramente si succede, è vero che si può ottenere l'IVA, però noi la pagamo l'IVA, capisci? e non ci posso fatturare, ho fatto il favore a dirlo, come ho dovuto tenere il tuo telefono, ho fatto il favore a dirlo, ma pago di cristiani, capito?